In Abruzzo, nelle tre università abruzzesi, sarà più facile avere delle borse di studio, quindi essere idonei per la borsa di studio. Perché? Perché abbiamo recepito un decreto ministeriale, siamo la sesta regione ad averlo fatto, quindi tra le prime dieci regioni. Questo decreto di fatto innalza l'ISEE per accedere alla borsa di studio. Prima l'ISEE al massimo era di 18.200 euro, oggi è di 32.000 euro, mentre la soglia ISPEU passa da 23.000 a 50.000 euro. Quindi alzando la soglia dell'ISEE probabilmente, anzi certamente, più persone potranno avere la borsa di studio o quante persone, probabilmente il 10% in più. Quindi diciamo ai ragazzi che vogliono iscriversi all'università, di iscriversi nelle università abruzzesi perché avranno una possibilità in più rispetto alle altre regioni di avere una borsa di studio. Specifichiamo assessore che non aumentano i fondi a disposizione, ma cambia ovviamente il calcolo. Cambia assolutamente il calcolo. I fondi potranno... Beh, intanto posso dire che l'anno scorso abbiamo dato a tutti gli idonei. Quindi, come dire, i fondi regionali sono bastati per coprire il 100% delle borse di studio. Quindi non abbiamo lasciato fuori nessuno degli idonei. Quest'anno sono certa che riusciremo a fare la stessa cosa.